abitiamo in un mondo fatto da saccenti, persone altamente istruite che sanno che sono professionisti di una data cosa e dall'altra parte abbiamo la massa delle persone che mediamente si è istruita ma si dedica al lavoro o impiegatizio medio quindi il lavoro che ti occupa otto ore al giorno difficilmente ti lascia il tempo per coltivare quella che è la cultura che va al di là dell'istruzione esteriore ed ecco che risulta quindi difficile imparare ad esprimere i concetti con semplicità imparare ad esprimere i concetti con semplicità significa da un lato sentirli interiormente e quindi andare a ricercare all'esterno tutti quei libri, tutte quelle strutture che ci permettono di apprendere inizialmente semplicemente con la mente razionale successivamente il nostro sentire interiore inizia ad attingere da quella conoscenza anche proveniente dall'esterno che però risuona con una nostra nota interiore a partire da questo scambio quindi abbiamo una sedimentazione di questa conoscenza dall'esterno passa all'interno della mente razionale entra a far parte di un nostro bagaglio culturale che va al di là della semplice istruzione ripeto di massa l'istruzione quella scolastica prendiamo come esempio un argomento che ci appassiona quando qualcosa ci prende quando qualcosa lo sentiamo veramente nostro allora per noi non è un peso metterci a studiare quella data cosa troviamo il tempo anche al di là delle otto ore di lavoro ordinarie troviamo il tempo per dedicarci alla nostra passione perché semplicemente il dedicarci a quella attività ci ricarica ci fa stare bene ed ecco che una volta sedimentata al nostro interno quella conoscenza che già ci apparteneva ma abbiamo semplicemente ricordato col cuore riusciamo ad esprimere all'esterno concetti apparentemente difficili per alcuni che verso i quali la conoscenza si ferma soltanto a livello razionale però chi sente interiormente a livello del cuore proprio di concetti suoi anche se li legge esteriormente entra in risonanza con quella conoscenza ecco che riuscirà a trasmetterla ad altri ad un'altra frequenza ad un'alta frequenza in una frequenza entro la quale molte persone possono con la quale molte persone possono entrare in risonanza è attingere se stesse da quella persona un dato sapere un conto è conoscere qualcosa solo a livello mentale un conto è saperlo esprimere con parole semplice e sapere esprimere un qualcosa di complicato di astratto anche con parole quotidiane con parole fruibili anche a più persone non solo chi è dedito a certi studi in un certo campo del sapere può permettere in questo periodo storico soprattutto dove certi insegnamenti sono restano occulti tra virgolette può permettere a chi sente di fare il salto di farlo anche grazie a chi riesce ad esprimere con semplicità determinati tipi di concetti grazie grazie a tutti